Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle sono le 4 e mezza del mattino e sono qua che sto andando a lavorare si vedono le occhiaie l'ora è presto e via discorrendo allora dovevano uscire gli spoiler ieri pomeriggio perché di solito al martedì pomeriggio intanto non vi guardo ma guardo la strada chi è meglio ogni tanto vi guarderò ma vi guarderò perché c'ho il tachimetro e allora dovevano uscire ieri a ora di pranzo e invece sto cazzo non sono usciti neanche ieri sera e sono usciti stanotte ad un'ora improponibile e quindi sono qua che vi faccio il video mentre vado a lavorare in furgone allora prima di iniziare col video ovviamente come al solito vi invito a mettere a iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su quello che sono i nostri video ormai va in automatico guardate qua sotto nell'info box ci sono tutti tutti i nostri contatti social ovviamente facebook instagram twitch seguiteci su telegram perché così potete avere tutti tutti gli aggiornamenti su quello che sono le nostre attività su quelle che sono le nostre attività detto questo cominciamo perché sono quattro righe ma sono quattro righe ultra succose allora capitolo 1030 il titolo è l'eco dell'impermanenza delle cose di tutte le cose allora già il titolo è un titolo molto altisonante per chi è avvezzo a quello che sono i concetti cardine del buddismo l'impermanenza di tutte le cose è assolutamente un concetto noto stranoto e arcinoto per chi invece non fosse avvezzo a questo tipo di argomentazioni l'impermanenza di tutte le cose è uno dei primi principi cardine del buddismo che cosa dice? banalmente dice che tutte le cose prima o poi hanno una fine e quindi ci sono bene o male due modi per potersi affacciare, per potersi rapportare al termine di queste cose con cose si intende oggetti, persone, animali e via discorrendo uno è attaccarcisi emotivamente ancora di più creando quella che è una strada verso la sofferenza, verso il naraka quindi praticamente una volta che abbiamo perso questa cosa che è destinata a finire noi vivremo una strada di perdita, di dolore o altrimenti dobbiamo rassegnarci al fatto che questa cosa comunque è destinata a perdere e quindi staccarci emotivamente da questo oggetto per, o anche da queste persone, per vederle con un certo distacco soprattutto un distacco emotivo perché il distacco emotivo, quindi il distacco da ogni passione è la strada verso l'illuminazione questa è la prima, è una delle prime regole del buddismo quindi già come titolo è abbastanza altisonante cioè è l'eco della fine di tutto detta proprio in maniera molto molto semplice quindi anche già nel titolo Oda ci dice ragazzi siamo agli sgoccioli ma forse non siamo solo noi come lettori o meglio come saga ad essere agli sgoccioli ma potrebbero essere agli sgoccioli anche alcuni personaggi importanti bene titolo passato il titolo andiamo alla prima riga allora, prima riga già ve lo dicevo tempo fa nelle varie live vi discorrendo mancavano Apu e Drake e infatti li vediamo in apertura di capitolo Apu e Drake che prima si stavano scontrando stanno parlottando per decidere il da farsi e perché stanno decidendo il da farsi? perché si trovano davanti tre dei quattro numbers rimasti cioè uno, due e tre quindi dopo rimarrebbe solamente sei quindi stanno confabulando per allearsi e probabilmente decideranno di allearsi per affrontare questi tre numbers oddio ragazzi cioè Franky in etrita ne abbatteva uno con abbastanza facilità e abbiamo visto anche Giamato abbatterne uno con abbastanza facilità per due super nove di un certo livello mi darebbe da fare che non li abbattessero tutti e tre in maniera abbastanza agevole e che si siano obbligati ad allearsi per abbattere dei numbers quindi la cosa già già fa strano ma al di là del strano non è che dice tanto anche sulla potenza e la potenzialità di questi due personaggi poi nella seconda parte di tre vediamo il ritorno di un personaggio che avevamo visto alla fine alla fine del primo capitolo cioè il buon e vecchio Orochi e questo ritorno fondamentalmente cosa fa? ci apre una strada per la conclusione di un altro personaggio che fino adesso è rimasto nascosto è rimasto decisamente in sordina in questa seconda parte di Onigashima ossia Denjiro perché dico questo? perché vediamo Orochi che dà gli ordini a un altro personaggio e gli dice di radere al suolo tutto di dare fuoco a tutto e questo personaggio crea un gigantesco demone di fuoco per distruggere praticamente l'intero castello chi è questo altro personaggio? il buon vecchio cuore Kanjuro cioè ragazzi allora il sacrificio il sacrificio di Kinemon non è servito a una beata mazza di nulla ragazzi che cosa possiamo dire di Kanjuro? cioè sembrava morto e invece non lo è a cosa serve? servirà per far saltare fuori Denjiro e Kiyori che avranno il loro incontro il loro scontro con il duo Orochi Orochi Kanjuro intanto il mio telefono è caduto quindi lo rimetterò in pari qua ok quindi avremo quella che è la conclusione dello avremo presto la conclusione di questi personaggi quindi Kiyori Denjiro Orochi e Kanjuro anche perché Kanjuro ragazzi cioè se preso le spadate le spadate di Kinemon e ci sta se preso le spadate di Kikuno Joe e ci sta ed è rimasto di nuovo in piedi quindi adesso ci manca solo l'uomo con la finta banana in testa a chiudere tutto e ci siamo poi abbiamo la terza e ultima parte quindi andiamo a coloro che sono decisamente i più importanti all'interno della cupola cioè Kid e Lo ci viene detto che Kid e Lo nel loro passato hanno risvegliato il potere dei loro frutti ma che riescono a utilizzarlo solo ed esclusivamente come diciamo ultima spiaggia prima non ci riescono forca puttana queste sono le zucche di Halloween no ok riescono a utilizzarlo solo come ultima spiaggia e cosa consiste questo loro potere risvegliato questo loro potere risvegliato consiste per Lo con la possibilità di colpire dall'interno il proprio avversario quindi in questo caso col suo potere può colpire dall'interno Big Mom diciamo che l'attacca in laparoscopia per dirla così mentre mentre il buon e vecchio Kid può creare può rendere qualcuno un magnete e infatti l'attacco combinato di questi due personaggi saranno che Lo attaccherà dall'interno Big Mom mentre Kid la rende una calamita quindi fa in modo che Big Mama ti riassè la qualunque e detto questo il capitolo si chiude queste sono le tre informazioni fondamentali che sono uscite per questo capitolo quindi detto questo vi invito a mettere like se vi è piaciuto il video dislike se non vi è piaciuto ovviamente voglio vedere un vostro commentino e voglio sapere voi cosa ne pensate ditemi voi cosa ne pensate di questo capitolo e di come sta portando avanti queste trame il buon e vecchio Oda detto questo vi saluto ed entro in rotonda ciao ci vediamo